Migranti passa la stretta sulla protezione speciale ma con una piccola retromarcia. Per la Papa Giovanni XXIII il governo dovrebbe incentivare piuttosto i corridoi umanitari. La Liguria ha sete, siccità e crisi idrica. Ne parleremo questa sera in diretta a TV tra gli ospiti esperti in diritto idrico ambientale ed emergenze idriche umanitarie. Il caso di Andorra travolta dal Cuneo Salino. Il Cammino di Santiago, un percorso spirituale umano sperimentato ogni anno da migliaia di pellegrini. L'architetto Gianni Perugi lo ha descritto ad un incontro organizzato dal Serra Club. Nel 2024 a Portofino la nuova edizione del Digital Fiction Festival dedicata alle serie TV girate in Liguria. Intanto numeri più che positivi nel 2022 per la Genova Liguria Film Commission. Sarà il tema del turismo il filo conduttore della terza edizione dell'Economic Forum Giannini. A Palazzo Rocca, Chiavari, dal 27 al 29 aprile. Relatori di alto livello per affrontare i temi della crescita e dello sviluppo del territorio. Aspettando il festival letterario Umberto Fracchia è in programma giugno. Casalza Liguria ha organizzato un convegno per parlare della sua eredità letteraria e del suo legame con Bargone. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Parliamo della discussione in corso in Parlamento sulla protezione speciale per quanto riguarda i migranti. L'obiettivo del governo è toglierla, anche se nelle ultime ore è stata ristretta e garantita solo per alcuni casi speciali. Secondo l'associazione Papa Giovanni XXIII la protezione speciale non dovrebbe essere oggetto di cambiamento. Il governo dovrebbe piuttosto spostare la mira su altri provvedimenti. Il primo servizio del giornale lo vediamo insieme. Piccola retromarcia sulla protezione speciale. L'iter in aula è in corso ma intanto la stretta sui migranti passa ma con correzione. Lo strumento sarà limitato a casi eccezionali con diversi paletti. Per la comunità Papa Giovanni XXIII le scelte del governo non porteranno a soluzioni efficaci in termini di accoglienza e integrazione. Ci saranno centinaia di migliaia di giovani migranti che saranno sulle strade italiane in balia di tutto e soprattutto della malavita. Ramonda chiede che la protezione venga garantita perché regolamenta l'esodo di tante persone che fuggono per guerra, fame, malattie e siccità. Il governo deve almeno creare un'opportunità lavorativa, tra l'altro richiesta dal mondo dell'agricoltura, dal mondo dell'industria. Mancano più di 200.000 lavoratori per i lavori che gli italiani non fanno più. Quindi se non altro per un discorso economico dovrebbe farlo per garantire i diritti umani ma almeno dia una risposta al paese attraverso questa risorsa. La Papa Giovanni, che si rende disponibile a collaborare insieme a tutto il terzo settore, chiede di puntare sui corridoi umanitari. Che garantiscono un arrivo sicuro, dignitoso, una ripartizione delle entrate sui vari paesi europei, dando lavoro, dando la possibilità di ricongiugento familiare, dando la scuola ai bambini perché si possano integrare sempre meglio. Intanto il governo scarica Francesco Lollobrigida sulle dichiarazioni relative alla sostituzione etnica. Il ministro si è detto dispiaciuto di aver sbagliato per ignoranza. Consiglierei a lui ma anche a tutti i ministri di leggere l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. In fondo siamo tutti inquilini su questa terra, nessuno è proprietario e quindi dobbiamo ascoltarci, rispettarci e collaborare. Questo è il futuro dell'umanità. La condivisione salverà il mondo. È stato pubblicato sull'albo pretorio della città metropolitana di Genova l'atto dirigenziale col quale si rende ufficiale l'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti per i due bacini del Levante. Per quanto riguarda il primo, il lotto numero 1, relativo al bacino del Tigulio, si è giudicato l'appalto Aprica S.P.A. per un importo di 97 milioni e 600 mila euro, oneri fiscali esclusi, come risultante dal ribasso offerto del 9,66%. Nell'otto 2, quello relativo all'affidamento del servizio di gestione della raccolta per il bacino del Golfo Paradiso e i Valli del Levante, il soggetto vincitore è stato l'associazione di imprese guidata da AmiU Genova, insieme alla cooperativa Ideal Service e la San Germano S.P.A. In questo caso l'importo di gara monta quasi 42 milioni di euro come risultante dal ribasso offerto del 5%. La Liguria ha sete, siccità e crisi idrica. È il tema che affronteremo questa sera in diretta televisiva. L'emergenza non coinvolge soltanto l'aspetto dell'acqua, ma anche i diritti e la tutela del consumatore. Tra giugno e dicembre dello scorso anno il Ponente ha sofferto molto la segetà e l'assenza di interventi seri. Sentiamo questa testimonianza che arriva da Andorra. Ad Andorra che cosa è accaduto? Ad Andorra è accaduto che è entrato il cuneo salino, il fatto che non piovesse da tempo. Purtroppo noi avendo una conformazione di alimentazione da dei pozzi che si alimentano da un nostro torrente, che è il torrente della Val Merula, questi pozzi si sono riempiti di acqua di mare. Che conseguenze avete avuto nella vita quotidiana? L'acqua di mare potete immaginare intanto un'ordinanza del sindaco di vieto di uso alimentare. C'è stato dei danni ingenti a tutti gli elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie, calderine e anche a livello fisico e sanitario, dermatiti. E in più c'è stato un assalto ai supermercati perché giustamente non essendo stato attivato un piano emergenziale, né da parte del gestore dell'acqua né anche a livello comunale, non è stato possibile vedere una cisterna. L'unico modo che avevamo per far da mangiare, usare l'acqua e darla a comprare nei supermercati. Adesso c'è ancora l'ordinanza? No, l'ordinanza è stata tolta il 31 di gennaio per l'uso alimentare, però ovviamente a causa dei continui lavori che si stanno facendo grazie al cielo per migliorare questa situazione dobbiamo fare dei collegamenti di migliorie di tubazioni verso il fiume Roia di Ventimiglia che è quello che alimenta principalmente Andorra. L'acqua è spesso palescente, scura. Quindi a prescindere la maggior parte dei cittadini per uso alimentare la continuano a usare. Che cosa chiedete, insomma? Se questi lavori non saranno terminati entro l'estate e saremo di nuovo in queste condizioni, si auspica almeno che vengano piazzate delle cisterne da parte della protezione civile, senza dover subire anche dei costi di dover comprare l'acqua. Quindi vi ricordo direttamente su, in onda questa sera alle 21 sul canale 12, tra gli ospiti Giulio Muzio, avvocato esperto di diritto idrico ambientale, Claudia Perlongo, ingegnere specializzata in emergenze idrico-monitarie, Furio Truzzi di Asso Utente e l'economista Remo Valsecchi. Tutti questi saranno ospiti del nostro direttamente su, ripeto, in onda alle 21, il programma come sempre curato dal nostro Maurizio Garreffa. Chiedono di essere ascoltati i responsabili dei parchi della Liguria, perché vogliono dare il loro contributo ad estirpare la peste suina, che sta continuando a infettare i cinghiali in un'area molto vasta, compresa tra la Liguria e il Piemonte. In un comunicato firmato Federparchi Liguria, i presidenti dei parchi Antola, Begua e Aveto criticano le misure adottate fin qui dalla struttura commissariale, ossia lo stop alle passeggiate nelle zone interessate, l'abbattimento di esemplari sani e la sistemazione delle recensioni, che poi si sono rivelate poco utili. All'inizio della stagione primaverile, gli antiparco chiedono di poter mettere a disposizione le proprie competenze per programmare iniziative nuove, volte a eliminare la malattia dalle zone fino ad oggi interessate, senza provvedimenti restrittivi che metterebbero in difficoltà le attività legate al turismo. L'ambulatorio, il medico di tutti, raddoppia. Dopo il debutto presso l'ospedale di Sessi Levanti, in occasione della giornata della salute, il nuovo servizio di prossimità inizia la sua attività anche a Rapallo, presso l'ospedale Nostra Signora di Montallegro. L'ambulatorio al piano terra sarà attivo anche in questo caso tutti i sabati mattina, dalle ore 8 alle ore 12. In questa fascia oraria un medico di medicina generale sarà presente su base volontaria per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma non necessitano dell'accesso al pronto soccorso. L'accesso è consentito previa telefonata al numero 0185 37 10 20, lo ripeto 37 10 20. Un operatore prenderà in carico la richiesta dell'utente e fornirà le indicazioni più appropriate. Il servizio è rivolto sia ai residenti della Regione Liguria, che potranno ricevere le prestazioni gratuitamente, sia ai non residenti per i quali è previsto il pagamento di un ticket di 15 euro attraverso lo sportello dei pagamenti della Regione. Si è svolta questa mattina nell'aula del Consiglio regionale la seduta solenne per celebrare il 78esimo anniversario della liberazione. Subito dopo l'apertura dei lavori, l'Assemblea si è raccolta in un minuto di silenzio in omaggio per i caduti civili e militari della guerra di liberazione. Poi il Presidente dell'Assemblea legislativa, Gianmarco Medusei, ha rivolto un indirizzo di saluto ai colleghi consiglieri, agli assessori, agli ospiti, al pubblico presente in aula. Nella seconda parte della seduta, Maurizio Viroli, professore merito di teoria politica alla Princeton University, nello Stato americano del New Jersey, ha tenuto l'orazione ufficiale. Secondo lo studioso, la lotta di liberazione fu un'esperienza profondamente religiosa perché fu sostenuta da una fede nell'essere umano, nella sua capacità di vivere libero, perché fu volontà di vivere e di morire per un ideale. Per questo non possiamo dimenticare la lotta della liberazione. Dimenticarla, ha concluso Viroli, vorrebbe dire dimenticare il dovere di vivere liberi. Nel contesto dell'attività promosse dal Serra Club, si è svolta una serata di approfondimento sulle ragioni storiche e spirituali che muovono ogni anno migliaia di pellegrini a compiere il cammino di Santiago. Ad illustrare questa esperienza l'architetto Gianni Perugi, che Santiago si è recato per ben dieci volte ottenendo in sei occasioni la compostela. Sentiamo. Sono migliaia di pellegrini da tutto il mondo che durante l'anno compiono il cammino di Santiago seguendo uno dei diversi percorsi possibili. Tre quelli principali, quello francese, quello portoghese e il tratto nord della Spagna, detto anche cammino primitivo. Il percorso prediletto da Gianni Perugi, architetto, che ha illustrato l'esperienza da alcuni rappresentanti del Serra Club riuniti a Carasco. Un cammino che parte da Oviedo, che fu il primo cammino che fu fatto dal re di Oviedo, Alfonso II il Casto, nel 1100, e che tracciò questo cammino, costruì lungo questo cammino degli ostelli. Ed è ancora oggi che questi ostelli sono parzialmente diruti, però è un cammino che è meraviglioso. Che cosa si incontra lungo il cammino? Beh, innanzitutto si incontra l'amicizia, si incontra la fratellanza tra le persone, si incontra una comunità di persone che vengono da tutte le parti del mondo e che hanno come un dato comune quello di credere in una freccia gialla che li porta verso la tomba di San Giacomo. Diverse le motivazioni che spingono a compierlo. Io non conoscevo nulla del cammino, un giorno già anziano mi venne in mente di fare il cammino e le motivazioni le trovai camminando. Lungo il cammino, oltre ad altri pellegrini, si incontrano anche paesi la cui connotazione è legata al percorso. Moltissimi paesi vivono sostanzialmente sul cammino, anche paesi che sono distanti, 500-600 km da Santiago, hanno nel loro nome il nome del cammino. Lei consiglia di farlo soli, perché? Beh, perché abbiamo bisogno ogni tanto di stare da soli, pensare da soli e contemporaneamente sentirsi parte di una comunità. Ecco, è fondamentale questo, secondo me. Passiamo ora alla cronaca. Tre ragazzi di 16 e 17 anni sono i responsabili del rogo che ha distrutto la sede del Bagnum a Riva Trigoso, nel comune di Sessi Levante, nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Lo riporta l'Ansa dicendo che sono stati identificati dai carabinieri e dalla Polizia Municipale grazie al sistema di videosorveglianza. L'incendio ha distrutto totalmente la struttura, è stato applicato con un innesco sulle panchine antistanti la struttura e grazie all'apertura delle bombole che erano presenti all'interno. Domenica 23 aprile, durante la Santa Messa delle ore 11, nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Untoria, nel centro storico di Savona, il Vescovo Monsignor Calogio Rommarino conferrerà il Ministero dell'Accolitato a Danilo Gambetta, insegnante della Legione Cattolica, che sta compiendo il cammino di formazione verso il Diaconato Permanente. Abbiamo vissuto con gioia le grandi celebrazioni della Settimana Santa, in particolar modo la notte e il giorno della Pasqua. Ora l'ormai prossima missione all'Accolitato di Danilo è una grazia per la nostra comunità, così dice il parroco padre Enrico Redaelli. L'Accolito è un ministro di culto in aiuto del Diacono e a servizio del sacerdote all'altare nelle processioni e in altri atti liturgici, come distributore della comunione in mancanza di ministri ordinari o quando essi siano in numero insufficiente. Nel marzo del 2024 Portofino ospiterà la nuova edizione del Digital Fiction Festival, un'edizione completamente rinnovata e dedicata alle serie TV girate nella nostra regione. Un appuntamento di grande prestigio per lanciare il nostro territorio e promuoverlo sempre di più come destinazione per produzioni audiovisive. Intanto sono numeri ancora una volta molto positivi, quelli dell'attività della Genova Liguria Film Commission. Il servizio lo vediamo insieme. 333 produzioni assistite tra film, fiction e serie TV, promo e videoclips musicali, 535 giornate di preparazione e 847 di riprese per un totale di 1.382 giornate di produzione, quasi 200 in più rispetto al 2021. E ancora 6.200 contatti lavorativi attivati, di cui circa 2.000 con professionisti liguri, per il reclutamento delle maestranze sui set, per un totale di 27.500 giornate di lavoro. 88 i comuni liguri in cui le produzioni hanno lavorato. Sono i numeri che raccontano l'attività del 2022 della Genova Liguria Film Commission. Si tratta del terzo anno nel quale i numeri del bilancio sono sempre più importanti rispetto a quello degli anni precedenti. Un trend destinato ad essere confermato, in quanto in questi primi tre mesi del 2023 sono già 135 le produzioni assistite, con 40 comuni liguri in cui queste hanno lavorato. Un fiorolocchiello per l'industria cinematografica italiana, volano di occupazione diretta per il territorio, ma anche con risvolti positivi in termini di presenze e di promozione. Nello scorso anno sono state 20.430 le notti d'albergo, mentre le ricadute economiche dirette sul territorio superano globalmente i 9 milioni di euro, per un valore complessivo delle produzioni stimato in circa 27 milioni di euro. 2022 è stato veramente un anno da record che ha superato gli anni da record precedenti. È un dato significativo il fatto che 333 produzioni abbiano portato più di 20.000 giornate di lavoro e che 4.000 persone siano liguri, quindi sono professionisti liguri che si sono formati anche attraverso il lavoro nelle produzioni di fascia alta, quelle che noi definiamo di fascia alta. Per cui è un segnale importante di ricaduta sul territorio, sviluppo economico e occupazionalità. Adesso è atteso prima dell'estate il bando a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive di Regione Liguria e della finanziaria regionale Filse. Il bando finanzierà un'ampia varietà di opere con una particolare attenzione ai lungometraggi, serie tv e documentari. È prevista infine una misura speciale per l'attrazione di produzioni nazionali e internazionali. Mattia Gradinati, Viola Aceti, Filippo Cella, Luca Ginocchio, Nicolas Sferrazzo, John Suvac, Matilde Brescia, delle classi prime sezione B, C e D della scuola media Dognocchi di Lavagna, li vedete sorridenti in questa fotografia, sono arrivati terzi al concorso organizzato dall'Istituto Nautico San Giorgio sul tema La sfida dal mare, dalle voce al mare, volto a sensibilizzare studenti e studentesse sul rispetto dell'ambiente marino. I ragazzi che hanno realizzato composizioni scritte e lavori di tecnologia hanno visitato la barca a vela in legno Nina VI e i laboratori del Nautico per finire in bellezza con un giro del Porto Antico su una barca a vela in dotazione all'Istituto San Giorgio. E sarà proprio la conferenza organizzata dalla Genova Liguria Film Commission dal titolo Gli Uomini della Vision, da Amadeo Peter Giannini ad Adriano Olivetti, Banca Impresa a misura Duomo, a dare inizio alla terza edizione dell'Economic Forum Giannini che si terrà a Chiavari dal 27 al 29 aprile prossimi presso il Palazzo Rocca. Oggi c'è stata la presentazione del programma e noi eravamo presenti. Sarà il tema del turismo il filo conduttore della terza edizione dell'Economic Forum Giannini. A Chiavari, il 28 e 29 aprile, con un'anteprima al 27 pomeriggio a cura del Centro Studi Giannini, si discuterà della più importante industria del territorio, alle prese con numeri in crescita, ma anche con problemi come l'inflazione e la gestione dei flussi. Siamo ancora in tempo per, crediamo per salvare il soldato turismo. Nel senso che la guerra è sempre più preoccupante. Avremo anche un dibattito interessante con dei giornalisti molto esperti di queste cose. Sabato mattina il direttore del secolo, Valdeschi, Paolo Garimberti, ex direttore, ex presidente RAI, corrispondente da Mosca, direttore del Tg2, Ennio Remondino, inviato di guerra storico della RAI, ne parleranno. e poi abbiamo tanti panel, soprattutto legati all'economia, a quella che sono i costi energetici sempre in aumento, il presidente di Confindustria, ci sarà la Filse, ci sarà la Regione e tanti altri ospiti. Si parlerà poi di clima e di crisi energetica, di sport e di cultura, con l'eredità del progetto Tiguglio Capitale Italiano della Cultura, di cinema e di musica italiana. Otto in tutto le conferenze ospitate a Palazzo Rocca, con relatori di alto livello nel mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e culturale. Si cercherà poi di fare un parallelo tra la figura di Peter Amadeo Giannini e quella di Michele Ferrero, fondatore dell'omonimo gruppo Dolciario, e si inizierà a dare risalto al centenario della nascita del giornalista Ligure Piero Ottone. Oltre al patrocinio di Comuni di Chiavari, Regione e Città Metropolitana, l'Economic Forum Giannini ha visto l'appoggio di una importante realtà del settore. Per noi era importante essere al fianco dell'Economic Forum Giannini, un importante evento, un momento importante per la Liguria in termini di eventi, di turismo, di investimenti che arriveranno. Si prospetta sicuramente una stagione molto interessante, i numeri sembrano molto positivi, quindi siamo già all'opera e già al fianco dei tanti esercizi commerciali e delle attività protagoniste in questo settore. In vista della terza edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, in programma giugno, il Comune di Casarzialigore ha organizzato un convegno per parlare della sua eredità letteraria e del suo legame con il territorio del Levante Ligure. Sentiamo. Umberto Fracchia è rimasto sempre molto legato a Casarzialigure e in particolare a Barguone, dove c'era una casa di proprietà dei suoi avvi materni, un luogo di quiete riposo per il letterato, oltre che di ispirazione. Lì aveva scelto di ritirarsi prima della morte nel 1930 ed è lì che ora sono sepolti i suoi resti. A Barguone, Fracchia aveva stretto contatti con Alfredo Bertello, primo traduttore delle opere di Shakespeare in Italia. Quindi è stato colui che ha portato tutto il teatro elisabettiano del Cinquecento e del Seicento a Barguone, a Casarzialigure e in Italia. Quindi io vorrei creare con Casarzialigure questo binomio, Fracchio Bertello, per dare un salto di qualità verso il cielo letterario di queste due grandi figure. Tra le creazioni più importanti di Fracchia c'è la rivista settimanale Fiera Letteraria, fondata e diretta da lui dal 1925 al 1928. Una rivista letteraria sul modello della rivista francese Les Nouvelles Literaires, che era un po' la rivista a cui Fracchia voleva trarre ispirazione. Fracchia fu un intellettuale che si divise tra letteratura, lavoro in casa editrice e giornalismo. Una cosa non comune a inizio del Novecento ma che divenne la norma nella seconda metà del secolo. Fracchia è stato per molti anni inviato di diversi giornali, è stato il direttore editoriale della Mondadori, il primo direttore editoriale della Mondadori quando la Mondadori è nata. Si è suddiviso in questi ambiti che poi sono diventati quelli di pertinenza tipica degli scrittori italiani almeno fino a una certa data. Quindi il vero mestiere degli scrittori è stato quello di o fare i giornalisti o fare gli editor. Il convegno, che si è svolto giovedì pomeriggio, a Villa Sottanis di Casarza Ligure è stato organizzato dal Comune per promuovere la terza edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia in programma a giugno. L'amministrazione l'ha sempre ritenuto un po' lo spirito culturale di Casarza. Per questo ha voluto ricordarlo con una serie di convegni nel tempo ma soprattutto è stato negli ultimi anni che si è acceso un po' più la luce dei riflettori su questa figura di questo letterato. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Gli appuntamenti di venerdì 21 aprile per la rassegna Storie sconfinate che coinvolge alcune scuole sui temi legati alle migrazioni il liceo di Rapallo propone un'attività di live action role playing sui temi delle migrazioni. Alle 10 all'auditorium Scartezzini. Invece alle 17 al Cinema Nuovo di La Spezia c'è la proiezione del film Trieste è bella di notte. Dalle 19.30 sempre a Spezia ammaloratorio dei Salesiani di Don Bosco cena solidale a cura dell'Istituto Casini. All'hotel Excelsior di Rapallo c'è un convegno sulla riforma dello sport inizio alle ore 16. Live Santa Green la giornata di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile. Inizio alle 16 alla banchina di Sant'Erasmo partecipano la presidente di AMT Ilaria Gavuglio il sindaco di Santa Margherita Polo Donadoni e amministratori di aziende che operano nel settore. Per i corsi di cultura di Chiaveri la professoressa Bernazza tiene una lezione di tesori lungo le antiche vie del sale su altare l'arte del vetro tra benedettini e signori feudali lungo la Val Bormida alle 16.15 nella sala Livellara di Via del Pino. Quarta edizione di Teatralità dell'Arte un progetto del Teatro Pubblico Ligure e Gli Sori. Alle 16.30 nel Chiostro di San Matteo a Genova il presidente dell'Ordine degli Architetti Riccardo Miselli e lo storico dell'arte Gianluca Porcile dialogano su la città del futuro. Nell'ambito dei venerdì a Paxo di Acompagna Domenico Carratta presenta il libro C'era una volta la duchessa di Galliera alle 17 nella sala Borlandi di Palazzo Ducale. Presentazione del libro Curare la Persona del docente di Teologia Morale Marco Doldi e del direttore generale di ASL4 Paolo Petralia al Cursal Margherita di Varazze inizio alle ore 18.00. Prosegue la rassegna Chiesa in Musica alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria della Cella a Genova San Pierdarena appuntamento con la musica di Brinella Antonella Fontana in Ensemble Quattro Canti San Jongo Spelchoir Spiritors and Folk e Voci sul Mare Tra gli appuntamenti del 25 aprile organizzati dal comune di Bogliasco c'è lo spettacolo teatrale Cenere Racconti Partigiani in attesa di un aprile di Marco Rinaldi alle 21 nella sala Piero Bozzo che si trova vicino alla stazione All'auditorium San Francesco di Chiavari c'è il primo concerto di About Jazz 02 con il Red Emma Trio proporranno il loro nuovo lavoro To Keep The Clouds Company inizio alle ore 21 Parliamo di sport e torniamo soprattutto a parlare di società sportive a Moconesi dopo aver visto ieri le attività del volley Uscio Ferrada passiamo al calcio e andiamo a conoscere il settore giovanile del Moconesi vediamo Il Moconesi ha solo il settore giovanile circa 60 bambini dalla leva 2017 alla 2013 per un totale di 5 squadre di cui una è iscritta per il CSI di Genova i piccoli calciatori si allenano e giocano nel campo sportivo di Ferrada di Moconesi gli allenamenti li dividiamo con tutte le leve con le altre leve facciamo un paio di allenamenti a settimana adesso nel periodo primaverile barra estivo riusciamo a farne anche tre perché le giornate un po' più lunghe ci consentono di avere un campo un pochettino più diciamo riscaldato l'attenzione principale avendo a che fare con iscritti così giovani è quella di farli divertire e imparare dallo stare in gruppo l'allenatore del 2013 Luca Briasco nota che i bambini sono molto più esperti di un tempo sul calcio in generale e sui giocatori sì sì assolutamente loro tra televisione videogiochi sanno già tutti i ruoli si gestiscono loro l'obiettivo nei prossimi anni è quello di crescere nei numeri molto i bambini ci danno tanto è una gioia vederli giocare è una gioia vederli quando vincono anche quando perdono perché ci stanno anche le sconfitte ed è una gioia vederli fondamentale come per ogni società sportiva giovanile il supporto dei dirigenti e dei genitori dei bambini sono molto orgogliosa dei bambini sono praticamente quasi tutti i miei figli molto orgogliosa li ringrazio tutti quanti perché sono sempre sempre pronti a giocare ringrazio naturalmente tutti chi ci aiuta tutti gli allenatori e naturalmente tutti i genitori perché i genitori se non ci fossero loro non esisteremo praticamente l'unione sportiva Sestri Levante Calcio ha chiesto all'amministrazione comunale di Chiavari di poter utilizzare il campo sportivo comunale di via Gastaldi che vedete in foto per le partite del prossimo campionato di calcio che il Sestri Levante disputerà in Serie C quindi la Lega Pro i rapporti tra Comune e Virtus Entella attuale gestore della struttura sono regolati da un contratto in scadenza 30 giugno 2023 che ne prevede l'utilizzo da parte di squadre cittadine questa la risposta del sindaco Federico Messuti che aggiunge è quindi necessaria la disponibilità da parte della società chiavarese affinché il Comune possa esprimersi entro la data richiesta ovvero al 20 giugno 2023 per questo l'amministrazione comunale di Chiavari ha scritto alla Virtus Entella di indicare in modo chiaro l'assenso o il diniego a concedere l'impianto al Sestri Levante calcio e con questa notizia termina il giornale anche questa sera prossimo appuntamento con l'informazione come sempre rinnovato a domani alle ore 12.45 vi ricordo in diretta come abbiamo detto durante il nostro giornale questa sera l'appuntamento con direttamente su la nostra trasmissione questa sera la trasmissione condotta da Maurizio Garreffa parlerà della siccità nella nostra regione io mi fermo qui grazie per la vostra cortese attenzione e l'augurio di una buona serata con i programmi della rete arrivederci